Devi crederci in sostanza, perché se non ci credi tu, nessuno lo fa per te. Mi chiamo Timur Shved, sono un sassofonista di 25 anni e sono un artista di strada. Sono nato in Bielorussia e sono venuto in Italia all'età di sei anni. Io ho cominciato a suonare sassofono della banda del paese. Non c'è stata una scelta mirata al sassofono, è stata in parte decisa anche da mia mamma in particolare. Grazie a mamma lo dobbiamo dire. Quando ho fatto il primo solo, avevo qualcosa come 8-9 anni. Dopo il liceo mi sono buttato completamente sul sassofono. Dopo tre anni di percorso ho cominciato a trovare la mia voce interiore, a riuscire a esprimerla al sassofono. Dopo la laurea mi butto per strada, me ne frego di quello che pensa la gente e vediamo come va. Prima dell'arte di strada non potevo dire di vivere di musica. Suonare per strada invece ti dà l'opportunità proprio di dire ok questo sarà il mio concerto, questo sarà il mio spazio, prendo, vado, va come va. Ho conosciuto anche la mia attuale ragazza, Oksana, lei per me rappresenta la positività, l'energia e la situazione che sta vivendo il paese di origine di Oksana, l'Ucraina, è ovviamente terribile ed è una cosa talmente lontana dalla musica che è difficile proprio concepirla in sé, anche perché la musica è amore e felicità. Grazie.